Il patrimonio boschivo va tutelato. Questo è il monumento del primo cittadino di Summonte, Pasquale Giuditta, che ha incontrato il Presidente del Parco Angelo del Partenio, Francesco Jovini, il Comandante dei Carabinieri Forestali, Maresciallo Nicola De Piano, il Carabinieri di Ospedaletto, rappresentato da Luciano Perrone, il Professore Antonio Pellecchia, esperto agronomo forestale, il Presidente dell'Associazione Eco Club di Mercogliano, Ciro Gimmelli, il Presidente dell'Associazione Irpina Trekking, Tonino Maffei, il responsabile del patrimonio del Comune di Summonte, Geometra Michele Capolupo, e il Consigliere Comunale Ingegner Mario Matarazzo. Il Sindaco di Summonte ha illustrato le attività messe in campo in questi anni per la tutela della montagna e del patrimonio e silvo ambientale dell'area montana di Summonte. Ha ricordato le lettere inviate al Prefetto in questi anni, al quale ha più volte chiesto un tavolo istituzionale per risolvere la problematica relativa al taglio indiscriminato che avviene in montagna, nonché gli atti di vandalismo. Al centro dell'incontro sono state due le problematiche sulle quali si sono soffermati, i furti e gli abbattimenti in montagna e la tutela delle specie autoctone. Il riferimento a quest'ultimo è lo specifico e arrivamento al faggio secolare presente in località Campo San Giovanni. Il riferimento ai furti in montagna e agli abbattimenti discriminati che si verificano sul nostro territorio, nonché agli atti di vandalismo, chiedo che vengano fatti maggiori controlli, ha dichiarato Giuditta. Ringrazio le forze dell'Urdi per il loro impegno costante e per essere sempre vicini alla nostra amministrazione. In merito all'albero monumentale del quale si è parlato sulla stampa locale, che è a rischio che l'amministrazione comunale aveva già provveduto ad incaricare un esperto, il dottore agronomo forestale Antonio Pellecchia, esperto del settore, che ha redatto una relazione illustrativa sulle condizioni dell'albero, sulla salute del faggio maggiore presente in località Campo San Giovanni, e dalla quale emerge che l'albero in questione è alla fine del proprio ciclo di vita naturale e che bisogna mettere in campo tutte le azioni idonee per farlo vivere quanto più possibile. A tal proposito, a proseguire il sindaco, sottolineo l'assenza del parco regionale del Partenio, che non è per niente presente sul territorio ed è manchevole anche di un regolamento in materia. Andare in montagna per verificare la salute di un albero, senza un esperto, ma solo accompagnato da un rappresentante dell'associazione Irpinia Trekking, non credo sia risolutivo. Avrebbe potuto coinvolgere il Comune e gli avrei comunicato che era già al lavoro l'esperto agronomo per verificare lo stato dell'albero. La nostra attenzione per la montagna è nota a tutti. Siamo stati uno dei primi comuni a candidare i nostri alberi secolari in regione Campania per l'inserimento nel censimento nazionale degli alberi monumentali d'Italia. Pertanto, continua Giuditta, credo sia mancata la concertazione tra enti e il parco regionale del Partenio sia stato un po' superficiale nella segnalazione di questa problematica del faggio, omettendo di comunicare all'ente, proprietario, ma gestendo la visita in montagna solo a fini mediatici. Nessuna polemica, ha detto ancora Giuditta, solo l'invita ad una maggiore concertazione in rete tra le istituzioni che ognuno per le proprie competenze devono tutelare il patrimonio boschivo. Ricordo che la nostra montagna ricade nell'area protetta del parco regionale del Partenio e il patrimonio ambientale va tutelato e difeso da iniziative scellerate e criminose. Mi preme innanzitutto fare gli auguri a Valeria Sciarampino, l'incarico conferito tra quelli che spettano i rappresentanti delle minoranze e consigliari, testimonia chiaramente come il Movimento 5 Stelle sia l'unica vera forza di opposizione presente in Consiglio regionale della Campania. Ma la nostra non sarà un'azione distruttiva, anche in Campania, all'assegua di quanto è accaduto a livello nazionale, è necessario aprire un dialogo con il Partito Democratico, anche in ragione del difficile momento storico che stiamo attraversando. Tutti, anche Vincenzo De Luca, hanno capito che c'è bisogno di tutti. Serve il dialogo, non il lanciafiamme, ha detto il portavoce del Movimento 5 Stelle, Gere Rosomaraia. Parliamoci chiaro, la gestione della sanità è stata e continua ad essere fallimentare. Il Covid ha messo in evidenza i dati dell'ASD nell'attivazione di nuovi posti letto di terapia intensiva ed ha confermato quello che negli ultimi anni ho sempre denunciato. Anche il Governatore ha preso coscienza dell'assenza di una chiara organizzazione per fronteggiare l'emergenza delle carenze del servizio epidemiologico, quello relativo al contact tracing che è in capo all'ASD. E proprio in riferimento all'azienda sanitaria locale, al netto dell'esposto presentato in procura, chiediamo di ascoltare le proposte che arrivano dagli operatori sanitari, dividere i percorsi per i pazienti Covid e monitorare costantemente chi lavora in ospedale per evitare l'insorgere di focolai all'interno delle strutture. C'è un forte malessere in merito alla situazione economica vissuta da imprenditori e famiglie. Il Governo punta ad evitare il lockdown generalizzato, ma tutto prima che dalla curva epidemiologica dipenderà dalla disponibilità di cure da offrire ai cittadini. Si gioca tutto sugli ospedali. Torniamo quindi ai posti di terapia intensiva, a quelli di subintensiva. Lì dove sono stati creati in modo sufficiente, come accaduto in Vento, Valle d'Aossa, Fiori Venezia Giulia e Basilicata, potrebbero non esserci grosse criticità. Il problema è altrove. Abbiamo a disposizione 2.000 posti letto. Con il DL rilancio il Governo ha finanziato la creazione di 3.500 posti in più. Ad oggi ne sono stati realizzati circa 1.300. Siamo indietro. E in questo senso la Campania, detto ancora Maraia, è l'ultima regione d'Italia per numeri di posti letto in relazione agli abitanti. Il rapporto dovrebbe essere di 14 posti ogni 100.000 abitanti. In Campania siamo fermi a 7. Quando in Campania verranno occupati tra i 200 e i 250 posti, allora saremo al limite del lockdown. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito dei servizi di controllo sull'esservanza e misure di contenimento ed emergenza epidemiologica, ha sequestrato in un esercizio commerciale di Arzano, gestito da un cittadino di origine cinese, oltre 139.000 mascherine sprovviste del marchio CE, pronte per essere messe in vendita. In particolare i finanzieri hanno individuato all'interno di un grosso rivenitore di Arzano oltre 139.000 dispositivi di protezione individuale, tra mascherine spacciate per chirurgie e KN95 anche con filtro. Tutti i prodotti erano privi di documentazione attestando le caratteristiche protettive delle autorizzazioni e certificazioni per l'importazione. Ben 8.000 di questi erano destinati a bambini. Posti sotto sequestro anche 200 pseudo visiere protettive e 15 tra termometri e pistoli termoscane radinfrarossi, sprovvisti di certificazioni in conformità e alla normativa europea di settore, nonché dei relativi controlli di qualità sul prodotto al fine di consentire affidabilità e certezza nella corretta misurazione della temperatura. La vendita dei prodotti al dettaglio avrebbe potuto fruttare al venditore circa 120.000 euro. L'attività di servizio testimoni il costante impegno della Guardia di Finanza di Napoli al contrasto agli leggi nel settore della sicurezza dei prodotti, finalizzata alla tutela dell'economia legale della salute dei consumatori.